Il Comune dell'Aquila rischia di perdere i fondi del Masterplan per la riqualificazione nell'area di Colle Maggio. L'allarme arriva dal capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale, Stefano Palumbo. Il progetto previsto per quell'area dalla precedente amministrazione non sarebbe gradito all'attuale, ma quale sia l'alternativa proposta per non perdere il fondo ancora non si sa, denuncia Palumbo. Sappiamo bene quanto siano lunghi i tempi per gli appalti pubblici, per gli importi coinvolti sono 10 milioni di euro, quindi richiedono le procedure piuttosto lunghe e ad oggi la città dell'Aquila è l'unica città capoluogo di regione che ancora non ha presentato le schede progettuali per attivare la procedura, quindi il rischio di perdere questi fondi è piuttosto concreto. Tutto parte dalla decisione dell'amministrazione di rimodulare questi fondi rispetto al progetto iniziale, quello dell'amministrazione Cialente, di farci di quell'area un parco della Luna con l'albergo dei Matti, insomma un intervento a finalità sociali, mentre la nuova amministrazione non è mai uscita con un atto per decidere cosa farne, ma il tempo scorre e purtroppo il rischio è seriamente concreto. Lei lancia anche un appello di collaborazione, in che senso? Ma è che se ci sono queste difficoltà non è certo intenzione mia o dell'opposizione di ostacolare e di fare in modo che l'amministrazione attuale fallisca in questo percorso, ma ci teniamo tutti affinché questi 10 milioni di euro vengano destinati per una riqualificazione, un'area importante da cuore per tutti i cittadini dell'Aquila, quindi la mia disponibilità e il mio sostegno è piena e totale, però chiedo altrettanta chiarezza all'amministrazione affinché questo rischio venga scongiurato.